E ciao a tutti ragazzi siamo iGameTrophy ed eccoci qui con un altro episodio su Outlast Nono episodio, c'è già uno qui Quindi cerchiamo di fare attenzione e spostiamo questa cosa Possibilmente non appiccicandosi No, più che altro facendo piano Questo mi sa che è già morto Ma sembra più normale? No, no, niente Buonasera No Ok Ma alzati Sembra un po' lento Vabbè io vado Si si Sta giocando lui, non sto giocando io Gens e i comandi Gens e i comandi Allora la porta Qui si è piccato qualcuno Che direi che c'è la luce No, non mi ero No, aspetta andiamo verso la luce Segui sempre la luce Mi sa che c'è qualcuno Dici? Due Vai dritto, vai dritto Ma se è il piove di andare qui vai dritto Dicci un po' qui Spieghi la luce Dimmi se che c'è qualcuno da vedere Oh, c'è Oh, un po' Dio, dio Ma Qualcuno sa Qualcuno sa Qualcuno sa Qualcuno sa Ah, no, no, no Non sono spostato Che gli apri la porta Ah Scusate Pila Vattoria Ma c'è anche la tua camera Eh, ma ne basta una Te che dici? Apri o no? io posso guardare, prova a pari a pari? a pari, prova a pari a pari, vado ad aprire dai provare, ma se vuoi si rinizia ma si che cazzo ce ne fonde leviamo la telecamera oh madonna ti aiuto io matto che mandi di merda c'ha però dai apri oh intende carci ma non c'era nessuno vabbè non è che c'è troppe porte in questo gioco beh direi ti devono fare l'incogionire poi manicomi belli secondo te che facciamo? non laggiù vero però andiamo a vedere se si trova qualche documento ah cioè con quella di incorso del genere la porta devi buttare giù tipo soffiando tutto chiuso? si vado a provare o dove le scale che portavano su dove prima oppure qua sotto io direi più affidabile qui no? come? quanto può essere affidabile infilarsi di un culinolo però entra proviamo se che ti puoi alzare? no scherzo oddio quanto ci scommetti che c'è lo stronzo che sbuca fuori quanto ci scommetti che mi sa che ci portano la sua perché ci vogliamo aprire le palle in due più o meno mentre la musichina? troppo vivo troppo vivo troppo vivo e se andavi giù di là prima su allora vediamo ah c'è una botella aperta su giuro? bello non posso dobbiamo leggere aspettate che sono troppo freddo eh eh oh yeah ah 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 oh oh avanti fuori mi sa quante cose si salta è più o meno un bomb però hm ti va giù? perché no oh oh un altro oh 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 ma ma lo scasta cosa se non vi questo sincronizzato come chi ma anche un po vai giù guarda quella qua no 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 ma dove cazzo la spira no la porta guarda facciola ah il tiro di fra la porta cazzo merda eh oramai ma vaffanculo avrà la via so ma puttana dai dai non corre ma al volo valentino qua 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 ma dai ma eh dove i blocchi non ce la farei mai arrivare qui chiudi la porta al volo e blocca chiudi chiudi eh le fatti entrare basta si è finito a volte ma ma che schifo ti accarezzano per ammazzarti eh ti guardano dicono che l'ammazzo o no grande oh peggio che c'è così fa vai via di qui vai via di qui vai via di qui vai via di qui chiudi 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 qui hai forte io non ci incontri sulle strade tu vai tu dovevi nascondere è tutto un... corri corri apri la porta a bordo bello questo nascondi nascondi no ecco sali Corri Forest oh tua madre non è vai 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 alter nooo mi sono bloccato corri nooo vola te corri 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 e non corre sta merda corri 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 madonna puttana è l'ascondigliante con che abilità a vedere qui non c'è no 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 ma dove è che parla vaffanculo vai tira direi tira direi tira direi no ma direi che tu all'inizio vai via ci stava apriendo la porta nooo giù 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 no su non lo so via giù giù era lì era lì no ci ha chiuso nooo sopra ti facevo salire mi sembra ah si guarda ti facevo ti facevo tipo vai farlo bene giro qui intorno no ma son tre mi erano due mi sa che devi salire lassù si vuoi di sali salta risalta ande guarda che bello rosso mi stava tipo massacrando dammi i soldi ma chi te li dai soldi rollo telecamera ah quel stronzo dai e rinchiudisi lì rinchiudisi lì ah no chazzai puttana vai che devo faa x sii ma andiamo c'è anche un ascensore che va senza corrente ma c'è un ascensore ma che cazzo eh ma sei la merda allora ehi guarda guarda uff un po' di martini che chiacchere eh un po' di martini che chiacchere eh un po' di martini che chiacchere eh due chiacchere eh vede martini l'animo vede martini siamo tipo ma che schifo c'è un ragazzo guarda un po' di cario non ti matare ok ok guarda insomma guarda se non lo sento succeda qualcosa non mi tagliare tipo le palle tipo lester no ha 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 no ma no la montagna mi sono liberi sei brutto ma guarda che c'è tipo da fare il piantatino di braccio e non c'è il sangue devi andare lì con la porta ma sono legato no no lo so se cerca di scappare beh c'è l'uscita è schifo ah quei tubi sai quei raccordi tipo le tubi nelle braccia legate o c'ha i tubi con qualche scorrezione e che altro bello che era lì mi sta portando lui praticamente uccidi non c'è non c'è non c'è ma non c'è non c'è non c'è non c'è ma non c'è non c'è non c'è che schifo non c'è non c'è ma non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è ma 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 che se gente tranquilla con te lì è piccolo eh con te lì è piccolo eh qualche tipo di barba ma ma non c'è non c'è non c'è ci fa la barba ci fa la barba ci taglia un braccio non c'è un braccio non ho la destra che mi serve quella ma pensavo ah ah e allora diventa la questione di te ecco che sono che gli credi o ci dai un braccio o ci dai una mano lo sapevo e mi sa che la telecamera non la prendi più in mano ma poi tutte no 3d si riascia meno che stiamo a scacola ma che cazzo stai affattata qui dentro fa anche un po' ridere veramente si ah lo smorti ah ora che non c'è ditti si libera pilla una telecamera la prima cosa che penso è quella non è che tipo scappiamo ahahah che schifo molto bellissimo poi il vomita ahahah che cazzo ti ha detto di entra qui dentro e infatti su mamma mia è bello che quello ora non c'è più si è teletrasportato perchè di qua è partito non è andato lì da ahahah ahahah infatti se vedi film fa camminare mezzo stopp si ma i diti la telecamera ma le dita ormai sono partibili chi è? non lo so c'è la parola lì insomma ma lui si difende come la telecamera e basta lui mette un hd e brucia gli zombie oh yesus che dice lui e ti pareva e ti pareva? 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 è piaciuta? che il G.Consoles il G.Consoles è il G.Consoles è il G.Consoles non c'è nessuno 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 è il G.Consoles e adesso DRAGOR 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 AHHHHH Vieni qua oh no c'è nessuno tu hai un pezzo DRAGOR è perfetto è qui per te l'obiettivo.it chi è piantato morto non ci ha visto è che caso ma è quello di prima si si è tutto il primo non posso farlo il giro non mi sono se ci sono una cosa che ho detto sono morto nasconditi o ve lì nasconditi quello torno lì dov'è no cazzo 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 fuori fuori esce aperta vedi quello che dicevo io all'uscita che c'è prima nasconditi qui no cazzo nasconditi lì sotto nasconditi nasconditi però se ti nascondivi dall'altro lato vedevo che succedeva c'è qualcuno ma non lo vedo mi ha visto cioè ha visto che sono scappato nasconditi e non vedo niente così eh la rischio vai via corri 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 su 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 ma sangue mi porta di quazza botola secondo me è per forza ma non è dove era dove sei già prima non lo so salvataggio benissimo allora aspetta un po' che c'è scritto ragazzi chiudiamo il gameplay qui perchè sta durando un po' tanto quindi riprendiamo la prossima volta ciao ciao ciao